Questa è la storia di una delle notti più difficili della mia lunga carriera. Senti, non riuscirai a far passare tutti i sacchi dal camino in un colpo solo. Presto il Natale avrebbe bussato alla porta di Wellington. Venite fuori! Vi presento... i nostri sfortunati eroi. Bernadette, conto su di te. Otto ore senza bambini! Oh, ciao, Danny! Ciao, Sam! Hai rovinato il pranzo di Natale di tutti! Tranne quello dei tacchini. Guarda! Papà sarà qui tra un'ora e ti porterà più regali di Babbo Natale. Ci vediamo! Papà! Oh, la neve. Pensavate che le nevicate fossero finite? Sbagliato! Buon Natale. Sono certa che ci ha provato. Non so se l'hai notato, ma c'è una leggerissima tormenta davanti a noi! Ciocchezze! È solo un po' di prezza! Sta tanto! Oh! Oh! Cosa? Non torneranno a casa per Natale? È una possibilità! No! Mamma, chi hai fatto ai capelli? Eh, già, non è niente. Quando ti senti solo, il Natale può essere difficile. E ai nostri eroi serviva un gigantesco sacco pieno di aiuto. Oh! 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 Divertiti, Babbo Natale! Dov'è Ivy? E la situazione sarebbe diventata... Per tutte le Renne! Molto, ma molto, più complicata. Più veloce! Preparatevi per... Quel Natale! Con chi parli? Parli da solo, Babbo Natale! Ogni... Ogni... Ogni...